Buon pomeriggio e ben trovato a Maglio Di Stefano che ci ha raggiunto nei nostri studi del Movimento 5 Stelle, sottosegretario degli esteri. Di Stefano, allora prima battuta, prima curiosità, l'abbiamo fatta off the record, appena è arrivato, questi presunti o insomma questi dissensi in seno al Movimento 5 Stelle sono rientrati o temete invece che possano allargarsi ulteriormente? Ci riferiamo al decreto sicurezza e alla stretta diciamo sul fronte migrazione che ad una parte del Movimento 5 Stelle così com'è, nell'articolato così com'è non sta bene, quindi sono stati proposti degli emendamenti. Ma io credo e abbiamo sempre dimostrato che la libertà di espressione dei parlamentari sia un principio sacrosante e garantito. Credo che i nostri colleghi abbiano ben chiaro che il progetto del Movimento 5 Stelle e di questo governo è molto ambizioso e quindi è necessaria un'unità di intenti nel lavoro che si fa in Parlamento perché non possiamo ovviamente lasciare che per questioni piccole, minime, si ledano interessi molto più grandi come rete di cittadinanza, come l'abolizione della legge Fornero, come tutto quello che stiamo facendo in questa manovra ad esempio. I nostri colleghi parlamentari sanno che questa è la partita in gioco e che bisogna giocarla tutti. Anche se hanno evocato anche concetti alti, è costituzione, è etica. È evidente che non approveremo mai un decreto che è incostituzionale, quindi ci mancherebbe altro. Quindi insomma richiamo alla testugine romana. Sinceramente sono tranquillo. Allora vi segnalo che alla Camera lo state facendo. Assolutamente falso. Beh, fate due condoni, uno diverso dall'altro. Questa è la propaganda che state facendo voi. No, questo è quello che c'è scritto in decreto. Il dramma di questi giorni è che c'è un'opposizione, in particolare il Partito Democratico, che sta bloccando il decreto che serve alla città di Genova per ripartire. Questo è il dramma vero di questi giorni. E lo nascondono dietro questo condono che non esiste. Se volete vi faccio vedere l'articolato, tra l'altro ce l'ho qua. Su Ischia in particolare, come dicono loro, questo famoso condono. Però sull'Italia centrale c'è scritto San Antonio. Che dice chiaramente che... Ma poi non è il testo del decreto. No, qui c'è il decreto. No, questo è il blog. No, questo è il testo del decreto, le tre righe. E si dice operazione verità perché quello che sarebbe facendo è il popolo opposto voi. Se volete ve lo spiego in due secondi. Si dice che i cittadini di Ischia che aspettano risposte per le senatorie fatte, legittime o meno, da tanti e tanti anni, devono avere risposta entro sei mesi. Se la risposta è negativa, quindi le autorità preposte, mica il governo ovviamente, le autorità preposte. Se la risposta è negativa non hanno nessun diritto neanche con questo decreto. Allora mi dice... Se la risposta è positiva, hanno diritto al risarcimento per il terremoto del 2017 soltanto per le parti non con aumento di volumetria. Quindi le parti che vengono sanate dall'autorità preposta. Quindi semplicemente il condono non esiste. Orlando, e questo lo trovate scritto. Basterebbe leggere o smettere di fare propaganda. Allora, nell'articolo che disciplina gli interventi nell'Italia centrale si parla esplicitamente di sanatoria. Che consente addirittura di sanare abusi che si sono realizzati dopo il sisma. Per quanto riguarda invece la questione di Ischia, è abbastanza stravagante questa interpretazione. Perché se il problema fosse l'arretrato, cioè le domande che si sono accumulate nel corso del tempo. Tenete conto che a Ischia ci sono 23 mila domande su un... Non so, gli abitanti saranno 50-60 mila. Allora uno dovrebbe fare questo, mandare più impiegati, più indipendenti. Non fare una nuova norma. Se si fa una nuova norma evidentemente si modificano i presupposti per l'accesso al condono. Mi sembra abbastanza... No, 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 no. Sono due cose diverse. La terza questione, perché vedete questo decreto Genova, io non credo che nessuno stia facendo ostruzionismo. Si sta facendo notare come è stato infarcito. Dentro questo decreto si sono messi due sanatorie per abusi di carattere edilizio. E poi si è messa una norma con la quale si consente, con dei tassi più alti rispetto al passato, di utilizzare per fini agricoli dei fanghi che sono contaminati da idrocarburi. E il... Questa... No, 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 non può replicare finché vuole. Di condono non ne ho parlato io, ne ha parlato il Ministro Costa. Io non ho dietro l'agenzia, mi dispiace, ma il Ministro Costa ha detto a me la parola condono fa venire il volto a stomaco, mi auguro che nel corso dei passaggi parlamentari si possa modificare questa norma. E' stato fatto, è stato fatto, è la legge che per come oggi non si avrebbe alcun condono. E' stato fatto. Io ripeto, basta leggere il testo. No, allora, l'unica modifica che è stata fatta per quanto attiene la sanatoria è questa. Si sono introdotte delle preclusioni assolutamente giuste che impediscono di accedere al condono a coloro che sono stati condannati per 416 bis e si prevede la possibilità di chiedere, anzi la possibilità, l'obbligo di chiedere un parere all'autorità competente per quanto riguarda il piano paesistico. sono esattamente gli stessi criteri che erano contenuti nel condono del 2003 introdotto dal Presidente Silvio Berlusconi, al quale dovreste riconoscere il copyright. Io quello che dico è... Mai provocazione. Io quello che dico... Da chi ci ha governati insieme è la provocazione che può dire. Da chi ci ha governati insieme mi fa sorridere come cosa. Io non sono mica un anti-berlusconiano di professione. No, no, lo sappiamo perspettamente. Allineati. No, no, allineati no, però almeno non prendo le cose che faceva lui e dico che sono mie, come quelle commedia all'italiana dove uno pensa ad aver scoperto la traviata. Aspetta, mi faccio sentire di Stefano. No, no, una cosa sola. Io dico solo, attenzione, perché voi partite così, quello che facciano gli altri faceva schifo, quello che fate voi è sempre legittimato dal fatto che voi state facendo, aprendo una nuova era. Attenzione, perché se tanto mi dà tanto, ha messo due condoni e una estinzione di una serie di processi grazie alla modifica sui fanghi, perché quella modifica di criteri farà interrompere una serie di processi che sono in corso. Io ho chiesto al Ministro, al Governo di dirmi se era stata fatta una valutazione su questo impatto, nessuno mi ha saputo rispondere. Se tanto mi dà tanto, fate un emendamento che prevede la strage degli innocenti all'interno della legge di bilancio. Attenzione, ve lo dico, non so se poi lo fate presentare ai rode, ma la possibilità diventa concreta. Io, senza voler veramente cadere nel gioco del quelli prima di noi, rispondo su queste provocazioni, rispondo soltanto dicendo che quelli prima non sono stati valutati dagli italiani il 4 di marzo, e quello che avete lasciato, ovvero le macerie, le conoscono bene. Io parlerei di quello che c'è nei decreti, negli atti. Il condono, dico a tutti gli italiani, non fidatevi né di Mario Ristefano né anche di Orlando, date a leggere il decreto e scoprirete che non c'è alcun condono, anche perché, ripeto, si dice all'autorità preposta per dare le sanatorie o meno, di farlo entro sei mesi e in base a loro parere il cittadino potrà avere un aiuto per ricostruire dopo il terremoto del 2017 nelle parti sanate, ovviamente. Quindi quello già mette una pera tombata sulla parola condono. Detto ciò, per quanto riguarda i fanghi, poi questa è una materia che uno dovrebbe anche spiegare agli italiani in cosa sono i fanghi, è una materia complessa, onestamente. Detto ciò, per la prima volta, e Costa si è impegnato in primo piano, tra l'altro Costa combatteva queste cose prima di diventare ministro già, si mette per la prima volta dei limiti e dei controlli sui fanghi che vengono utilizzati per innaffiare i campi dove poi ricrescono. Questo non è vero perché sono dieci volte più alti di quelli attualmente utilizzati. Ora vi leggo, se volete, l'articolo 41 che parla proprio di questo, che mi piace parlare con i dati e non con le semplici chiacchiere. Si mettono per la prima volta questi valori e addirittura si mettono in una quota di 1000 mg per chilo quando la regione lombardia che aveva fatto proprio una norma sui fanghi, perché lì è un problema molto sentito, indicava 10.000 per chilo, quindi dieci volte tanto. Vuol dire che la norma già è molto restrittiva per come è oggi. In più si inseriscono nell'analisi dei fanghi non soltanto alcuni tipi di inquinanti che c'erano prima, ma se ne aggiungono tanti altri, di ossine, tanti altri non listati. Questo cosa significa, cosa serve a dire? Senatore, ma a livello nazionale, quello per i terreni, non per i fanghi. A livello nazionale era 0,50. Ecco, un'altra bugia. 0,50 è sui terreni, non sui fanghi. Cioè il terreno può essere inquinato per 0,50 ogni metro. Mentre i fanghi avevano un altro valore. Com'è possibile che sia nocivo 1,50 nei terreni e non lo sia una norma 20 volte tanto a livello... Ma glielo spiego subito, perché i fanghi vengono distribuiti con una certa e precisa quantità per chilometro quadrato. Quindi non deve pensare al metro quadro, ma sulla grande quantità. Ma questo nella legge non c'è scritto. No, è tutto scritto, l'articolo 41 se lo va dalla legge. Non c'è scritto come vengono distribuiti i fanghi. Ma assolutamente sì, è normato. Ma ci mancherebbe altro. Qualunque ricoltore potrà sfruttare qualunque cose. Ma assolutamente no. Ma guardi, possiamo rivedere ai cittadini, articolo 41 se lo va dalla legge. Allora, stando sempre ai cittadini, faccio una domanda a lei che ho fatto ai suoi colleghi per la quale non ho avuto risposta. Siccome cambiano i parametri sulla base dei quali viene valutato un comportamento illecito, voi avete valutato se c'è o non c'è un impatto sui processi penali pendenti? C'è stata una verifica di questo tipo? Non mi risponda, non c'è. Mi risponda se è stata fatta questa verifica. Beh, certamente sì, come tutto quello che esce dai ministeri viene verificata. Chi l'ha fatta? Il Ministro dell'Ambiente in questo caso. No, questa è una verifica, glielo dico, da ex Ministro della Giustizia e anche da ex Ministro dell'Ambiente che ha fatto... Il Ministro dell'Ambiente, ma tramite richiesta di chi emana il decreto si fa la verifica. No, io lo sto chiedendo, lei è certo che è stata fatta questa verifica, me lo può giurare qui che è stata fatta questa verifica? Non posso giurarlo perché ovviamente questa è una materia del Ministro Costa, io mi occupo di... No, del Ministro Bonafede perché questa è una verifica... Il Ministro Costa la richiede al Ministro Bonafede, ma il decreto è del Ministro Costa in questo caso, sui fanghi. Certo, certo, però la verifica sugli uffici giudiziari la fa il Ministro... Arlando, risale perché lavorava proprio in questo ambito che tutte le norme che vengono fatte vengono valutate dai ministeri competenti che hanno indirizzo su quella materia e di conseguenza una valutazione viene fatta a prescindere, ma comunque questo non c'entra nulla. Ma come non c'entra nulla? Ma come non c'entra nulla? Se ci fossero 20 persone in Italia... La materia ora è restrittiva, quindi male che vada, aumenta il numero di persone che sono punibili, non diminuisce. Non è così perché come ha detto lei, prima venivano processati sul tasso dei terreni e oggi su quello dei panni. No, 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 non mi hai detto questo. No, ecce, ma è il parametro che veniva utilizzato. Io le sto dicendo, lei è certo in questo momento in cui mi stai rispondendo che la modifica della norma non porterà all'estinzione di nessun processo? Ma certamente sì, ripeto, aumentiamo i paletti per l'analisi dei fanghi e quindi delle irrigazioni dei campi. Vi posso chiedere poi la registrazione della puntata? Sì, sì, la trovate sul titolo di Sky, ma c'è un po' l'unica da voi. Esatto. Perché questa verifica io sono certo che non è stata fatta. Va benissimo. Ora dobbiamo appurarlo. No, può darsi anche che quello che sto dicendo io, che non ci sia un effetto immediato sui processi e neanche immediato, ma questa verifica non è stata fatta. Va benissimo. Massimo? Prendiamo i PD? Beh, subito, così. Non abbiamo ancora il TAP. Ma chiedi, se ti hai messo un segretario, una volta ne avremmo parlato per giorni, adesso diciamo, due minuti, bisognerà pure parlare. Ora siamo tutti concentrati su questa manovra, il 2,4. No, no, il 2,4 non come percentuale del PD. Speriamo di no. È un baccura. Cacciò che ha detto sotto al 15% si stigge. No, perché poi ne arrivano i tweet, la rosa per i 5 stelle quando è no. No, vabbè, però è un po' gratuita. Sì, grazie. E anche, non fa nemmeno troppo ridere, ho sbagliato. Massimo? Chiedo scusa, allora la domanda è, Martina si presenta? È candidato segretario? È una cosa che va chiesta a Martina, io credo che ci sia ancora tempo, ci sta riflettendo, non lo so, sinceramente. Sarebbe una buona cosa. Guardi, non è neanche, se le devo proprio dire la verità, con il massimo rispetto di Maurizio, che ha tutto il titolo per candidarsi, non è neanche, secondo me, la questione principale in questo momento, chi sono i candidati. Secondo me il tema vero è che cosa mettono in campo i candidati in questo momento, quali sono le proposte politiche. Cioè, spesso, quando non si vuole parlare di nomi si dice che bisogna parlare di idee, ma adesso è proprio un momento in cui bisogna parlare di idee. Però, ne parlavamo anche prima, fuori onda, non è un mistero, una formazione, diciamo, alle primarie con Martina, Minniti e Zingaretti, a me sembra molto omogenea dal punto di vista delle visioni del mondo. Dipende di cosa diranno, dipende molto da cosa diranno, cioè non è che Melanchon era un militante del partito socialista molto ortodosso e poi è diventato il capo, diciamo, di una forza politica molto contestataria che ha preso il 18% alle elezioni. E possiamo poter fare l'esempio di tanti altri che in qualche modo hanno rotto con una tradizione e hanno prodotto qualcosa di nuovo. Io credo che bisogna rompere con una tradizione, perché quando si misurerà il fatto che, diciamo così, la demagogia messa in campo da questi anni fa scopa con la subalternità ad alcuni interessi, perché noi vediamo il Ponte di Gemma lo ricostruirà autostrade, per come è stato scritto il decreto. Le prime cose che si affrettano ad affrontare è il tema del condono e quello delle lobby che chiedono di smaltire i fanghi. Quando gli italiani capiranno che questa contestazione al sistema in verità è molto funzionale a un certo pezzo del sistema, un po' per scelta e un po' anche per insipienza, o il PD è da un'altra parte, cioè il PD è in grado di mettere in campo una proposta effettivamente alternativa, o non basterà la strategia dei popcorn, cioè non basterà semplicemente dire vabbè adesso si è dimostrato che loro non sono in grado, tornate da noi, perché non funziona così da nessuna parte, perché la gente che ha votato per loro è gente che in qualche modo contesta un assetto del sistema capitalistico, lo vogliamo chiamare così se non fosse un po' obsoleta questa espressione. Oggi dovrebbe ragionare Renzi quando diceva, ha detto che con i 5 Stelle non si può governare? Io penso che andava fatta una verifica, sono convinto del fatto che aprire un confronto con i 5 Stelle avrebbe fatto emergere anche delle contraddizioni dentro lo stesso Movimento 5 Stelle e tolto molti alibi, io non so se ci sarebbero state le condizioni o meno, dopodiché quello di cui sono convinto in questo momento è che è chiaro che le condizioni non ci sono più, anche perché noi stiamo assistendo sostanzialmente a una metamorfosi del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle sta diventando il Junior Partner della Lega, il vero capo politico di questa coalizione è evidentemente Matteo Salvini, quindi noi adesso parlare, oggi parlare con il 5 Stelle significa parlare con una forza che nel frattempo sta diventando un'altra cosa. Sta diventando un'altra cosa di Stato del Movimento 5 Stelle perché i numeri del 4 marzo non dicevano così, tra me e il Junior Partner, quei numeri invece davano al Movimento la gestione, la leadership della coalizione. Io quando qualcuno del Partito Democratico fa delle previsioni sul 5 Stelle sono sempre felice, perché in genere le portano bene. A ogni tornata elettorale, tra sondaggi e pareri dei nemici politici, siamo sempre dieci punti sotto quello che poi prendiamo. I sondaggi di oggi... Però questo fa un po' il paio con la politica del contorno. No, ma i sondaggi di oggi li voglio analizzare in modo serio. Non è il mio caso, senatore. Ho previsto che a queste elezioni avreste avuto un grande successo, quindi non è proprio il mio caso. Facciamo finta che il sondaggio sia la verità, quindi che oggi il Movimento 5 Stelle sia al 28-27, e la Lega sia al 33-34, facciamo finta che questa sia la verità. I voti della Lega sono esattamente la somma di quello che ha preso la Lega e di quello che hanno eroso a Forza Italia, ai partiti di destra in generale. Quindi da noi lì non si prende proprio nulla. E i nostri sondaggi sono esattamente gli stessi, li colleghavamo prima del 4 marzo, quando poi invece abbiamo preso 7 punti in più. Per dire cosa questo? Che sui sondaggi, secondo me, c'è poco da analizzare ancora. L'unica certezza è che il rifiuto degli italiani verso il Partito Democratico e Forza Italia è pieno e totale, rimarrà così probabilmente, anche perché non mi sembra che stiano cambiando più di tanto, neanche nello storytelling di quello che dicono. Per quanto riguarda invece l'equilibrio di governo, fino a prova contraria, noi abbiamo, nel valore dei numeri poi, dieci ministeri, quelli dove c'è la spesa poi, e quelli che hanno diretto impatto sulla vita degli italiani, perché gli italiani devono sapere, lo sanno già, che se dal 2 di aprile arriverà il reddito di cittadinanza, le pensioni minime saranno a 780 euro, si supererà la legge Fornero, sono tutti i provvedimenti che nascono dai ministeri... Un po' più in là, forse, del 2 di aprile di Stefano, con il fatto che sono stati... Dal 2 aprile in avanti, diciamo, però comunque entro il primo semestre del 2019. Entro il primo semestre del 2019... Sono tutti i provvedimenti che nascono dai ministeri a guida Movimento 5 Stelle, spesso il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico di Luigi Di Maio e quant'altro. Poi è chiaro che c'è una propensione naturale per qualcuno a parlare di più magari, e quindi emergere, ma noi sappiamo che gli italiani vedranno il risultato finale, che arriva nelle loro vite ogni giorno e capiranno che è in merito del 5 Stelle. Il Movimento al Governo ha già deciso che la TAV non si fa? Il Movimento storicamente è sempre stato un Movimento con un'idea no TAV. È ovvio che questo è un governo regolato da un contratto di governo, dove c'è anche la sensibilità della Lega Nord sulla TAV, e dove si è definito che... Però lì c'è poco da migliore, o si fa o non si fa? No, in realtà anche nel contratto si definì la logica del... Vediamo realmente i costi e i benefici. Tante analisi già sono state fatte, no? Così, analisi sempre di qualche portatore di interesse, però... Non farla vuol dire... No, però chi è che garantisce che voi non lo siate? No, lo stiamo facendo... Siamo tutti portatori di interesse. No, lo stiamo facendo fare una commissione ministeriale noi, quindi non del Movimento 5 Stelle. Che però di Stefano, la commissione ministeriale ha detto che alla fine la decisione è politica. Certo, quello come tutte le opere, anche se ti dovessero dire che è positiva, tu puoi decidere di non farlo, ci mancherebbe altro. Però noi abbiamo detto che ci atterremo a una valutazione oggettiva. Poi è chiaro, ripeto, che dal nostro punto di vista è un'opera totalmente anacronistica, perché sembra in un'epoca in cui tra l'avvento del digitale e tra l'utilizzo di altre reti si può... il tasso di trasporto sta calando drasticamente, anche sulla linea che esiste già, perché c'è già una linea che fa questo servizio e ha dei livelli di utilizzo sempre più bassi. Allora noi abbiamo deciso, a prescindere di mettere 2 miliardi nei trasporti, soltanto per quanto riguarda il Piemonte. C'è tutta una strutturazione per tutto il territorio nazionale che ha bisogno di grandi investimenti per far sì che la linea attualmente esistente venga rivalutata. E questo prescinderà. La TAV, che comunque è un'opera che se si conclude, si conclude farà 20-30 anni, quindi si deve agire subito. Ma parliamo di TAV che costa miliardi in un momento in cui in Italia continua a dire non è propaganda, in realtà, vissute dagli italiani, crollano i ponti. Matera, città della cultura 2019, non ci arriva il treno. Noi avremo turisti che vengono a Matera e non ci arriva il treno. Nel frattempo parliamo di TAV. Questa è una visione del mondo, magari legittima, ma che è di un'altra politica, che è stata bocciata il 4 marzo, aggiungo. Io credo che mi aspettavo una risposta, diciamo, rivoluzionaria, secondo i canoni del Movimento 5 Stelle, la risposta è un po', l'avrebbe potuta dire il famoso Cencelli, perché dice che abbiamo più ministeri. Ci mancherebbe altro che in un governo nel quale avete il 30% voi, il 19% della Lega, avesse più ministeri della Lega. È evidente che avete più ministeri voi. Il problema è che i temi dell'agenda politica in questo momento sono tutti dettati dalla Lega, anche perché le questioni che voi avete posto sono tutte sliltate nel tempo. Il salario di cittadinanza e la Fornero, che diciamo comunque è una questione in condominio tra voi e la Lega, è messa in collegati alla legge di Stabilità. 2 aprile. Sì, però tutti si aspettavano che fossero direttamente dentro la legge di bilancio. No, non è vero. Si fanno sempre i collegati perché si deve fare una norma complessa. Guardi, il collegato ambiente che ho messo io nella legge di bilancio del 2014 c'è stato approvato nel 2018. È un altro tipo di norma. Ma lo dico, però non è che siccome in un collegato quello si fa. Dopodiché sulla questione della TAV, scusate il lapsus freudiano perché c'è pure quella sulla quale hanno cambiato posizione, sulla questione della TAV c'è una questione sulla quale dovreste un attimo riflettere, perché si dice sì, ma noi i soldi li vogliamo mettere nelle ferrovie locali, ma intanto dei soldi là sono stati spesi, quei soldi vengono buttati via. No, quei soldi vengono buttati via per colpa di chi ha mandato avanti un'opera che non serviva. Ma vabbè, come dire, una casa è stata fatta. Detto ciò, noi ne parliamo con una posizione chiara a dieci anni, ne parliamo con una posizione chiarissima. Io vi do atto, dopodiché si continua... No, no, che siate coerenti, però si può essere coerenti anche nella stupidità, non è che necessariamente essere coerenti... Ne abbiamo prova abbondante negli ultimi anni. Sì, sì, ma questo è il leitmotiv, ma voi dovete dimostrare effettivamente che voi siete in grado di fare una strategia di collegamento internazionale sul ferro, anziché quella su gomma. Cosa che oggi non è dimostrata. Ti voglio chiudere. Grazie, grazie veramente Andorlando. Grazie a Maglio di Stapa, al nostro Massimo Leone e a tutti voi.